Allora, mi raccomando, arrivederci, si ricordi, mercoledì pomeriggio Prego, si accomodi Buongiorno Ciao, Ne Ha un appuntamento? Ma veramente un appuntamento no, ma penso che è lo stesso Le fa male? No E gonfio? Quando basta E' già in cura da noi? Beh, no, adesso, ma lo sono stato, molto Come si chiama? Ah, perché adesso volete sapere anche il nome, giustamente, non si sa mai con chi si ha a che fare Baudaffi Pasquale E per la fattura ho ricevuta fiscale? Addirittura fate pure le fatture Senda, la tariffa, quant'è? Per le otturazioni? Per? Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniari proprio Le inventate tutte, giustamente Sì, per le otturazioni Più o meno 20.000 lire Più o meno? 20.000 Precise Allora Cinque Cinque otturazioni Cinque otturazioni? Sì, sono due anni che Va bene, allora io segno cinque otturazioni Cinque Preferisce la titolare o suo marito? Questo non lo ha ferreto adesso Se per le otturazioni preferisce la titolare o suo marito? Beh, che qui c'è un gioco, diciamo, misto C'è chi viene per una cosa, chi viene per... No, no, io... Per la titolare, con la titolare Che se volevo, cari signorini, quell'altro tipo di otturazioni, due anni Lì pure gratis, non vedevano l'ora C'è la miseria Va bene, si accomodi Bello, bello, uguale, uguale A te mi piace Veramente un'atmosfera bellissima Che ti crea proprio quella situazione giusta Beh, una certa eleganza predispone bene il cliente Eh, io non per dire sono molto ben predisposto Anzi Signorini, facciamo una bella cosa Visto che la titolare credo che abbia da fare di là Possiamo fare noi due la stessa cosa se lei vuole Cosa dice? Io non sono ancora all'altezza Beh, sembra così, dite Lei all'altezza è come? La titolare non permetterebbe mai È un po' invidiosa Mi fa assistere solo in casi eccezionali Lei è un caso eccezionale? Beh, questa è la voce che corre in giro, mo Tocca a lei dirlo, io non devo si... Va bene, allora me lo faccia vedere Perché? Si stupisce? In cinque anni di esperienza sapesse quanti ne ho visti Lunghi, corti, quadrati, a punta, a falce, a martello A falce e martello, tipo Berlinguer Persino a tenaglia e a imbuto Beh, questa imbuto è troppo bella, devo raccontare Imbuto deve essere una cosa... Allora, apra e me lo faccia vedere Beh, oh, sto buondo Grazie a tutti